Eccoci alle previsioni per il fine settimana sulla regione. Per quanto riguarda la situazione generale del tempo abbiamo la prevalenza anticiclonica sull'Europa centro-meridionale anche se dell'aria umida continua a ristagnare sul Triveneto ma si tratta di poca cosa. Per quanto riguarda giornata di domani la previsione vede cielo poco nuvoloso per quanto riguarda pianura e costa con borino lungo la costa. Questo farà sì che le temperature cominceranno a salire ben presto durante la giornata e arriveranno nel pomeriggio intorno ai 34-35 gradi in pianura sui 32-33 lungo la costa quindi farà molto caldo. Sui monti cielo variabile con dal pomeriggio qualche rovescio temporale locale non è escluso che qualche episodio vi sia anche sulle zone pianeggianti. Per domenica giornata prettamente estiva con cielo sereno al più poco nuvoloso su pianura e costa ancora molto caldo venti di brezza sulla costa. Sui monti bel tempo al mattino mentre dal pomeriggio sarà possibile qualche isolato rovescio o breve temporale. Non escludo che verso sera vi sia qualche episodio anche in pianura ma la possibilità è piuttosto bassa. Come detto ancora gran caldo sulla regione. Giornata successiva di lunedì vedrà un cambiamento con l'arrivo di un fronte freddo dall'Atlantico e questo determinerà temporali sparsi localmente è possibile che qualche temporale sia anche forte. Le temperature saranno ancora piuttosto alte intorno ai 30 gradi circa le massime poi però dalla sera arriverà bora forte sulla costa e le temperature scenderanno per cui nella giornata di martedì quella successiva avremo temperature massime non oltre 25 gradi su pianura e costa. Dall'osservatorio meteo regionale dell'arpa un saluto da marcellino salvador Grazie a tutti.